Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Ragazzi oggi vi voglio parlare di un integratore per capelli che ha un rapporto uguale a prezzo davvero eccezionale. Il prodotto in questione è il BioFaltil Forte prodotto dalla Equilibra. Equilibra è un'azienda italiana che nasce a Torino nel ben lontano 1987 dall'ingegner Franco Bianco. Tutti gli integratori Equilibra sono prodotti a base di ingredienti naturali come vitamine, minerali, estratti vegetali che vengono utilizzati per integrare la dieta. Equilibra produce una vasta gamma di integratori naturale per il benessere dei capelli, della pelle, delle articolazioni, integratori per la digestione, per il metabolismo. Equilibra produce anche una vasta gamma di sciampi, tra cui quelli anti-gaduta, che sono veramente molto validi. Venendo all'integratore che io utilizzo da diverso tempo, il BioFaltil, vi do una breve panoramica di quelli che sono gli ingredienti che contiene questo prodotto. Gli ingredienti presenti in BioFaltil Forte includono vitamine del gruppo B, quindi la biotina, l'acido folico, lo zinco, il selenio, estratto di tè verde, estratto di borragine. Poi troviamo anche altri ingredienti che veramente sono molto efficaci per i capelli come l'ortica, un aminoacido come l'elecisteina che è ottimo. Quindi ragazzi è un mix di ingredienti davvero formulato bene ragazzi questo prodotto e poi ha un prezzo che da nessuna parte riuscite a trovarlo con questi ingredienti qui. La confezione contiene 32 capsule, come va assunto 2 capsule al giorno, io ho fatto così il primo mese, ho assunto 2 capsule al giorno, poi ho fatto un periodo di sospensione e poi l'ho ripreso e ho fatto una capsule al giorno. Vi faccio vedere le capsule come si presentano, vedete ragazzi ho appena iniziato. Prendo uno, sono gommose, eccola qui la capsula, è facilmente digeribile e non dà assolutamente nessun problema, almeno per quanto mi riguarda, mai ho avuto problemi di stomaco. Sempre all'interno troviamo un foglietto illustrativo dove ci fa vedere che oltre, ci fa vedere qua i vari prodotti dell'equilibrio, abbiamo anche qua gli sciampi, altri integratori. Ragazzi vi lascerò il link in descrizione nel caso in cui vogliate acquistarlo. Come sempre ragazzi vi invito ad iscrivervi al mio canale, se il video ti è piaciuto mi lasci un like. Ciao!